Gira, gira, Weekend Editoria, gira! Super entusiasmante perché cena e dopo cena descrivono un nuovo modo di vivere la vita e perché il Nuova Vita Beach è questo per voi, cena dopo cena ma non solo e noi lo vediamo così con le persone che lo hanno voluto descrivere per voi cominciando con noi a girare nella notte estiva di grande divertimento. Nuova Vita Beach by day, Nuova Vita Beach by night, siamo nel pieno di una serata estiva sotto le stelle in una struttura che Paolo Giorgini e il suo staff sono riusciti nell'arco di questi ultimi anni a rendere davvero sfavillante. Abbiamo realizzato il nostro sogno, cioè quello di creare una struttura che regala tranquillità e serenità per le famiglie, per gli amici che ormai cominciano a crescere come noi che ci hanno seguito dai primi anni della discoteca fino ad arrivare appunto ad oggi e poi comunque come dire la voglia di divertimento è sempre dentro di noi e quindi regaliamo queste piccole perle il venerdì sera e la domenica con l'aperitivo cenato che sono il cuore che batte del Nuova Vita che non riusciamo a frenare. Ci siamo concentrati tanto sulla ristorazione sia a pranzo che a cena, nel venerdì sera come state appunto vedendo questa sera facciamo la cena spettacolo, ci saranno i secondo senso, ci saranno gli audio magazine, torneranno e qui si suona, avremo Matthew Lee che è un performer del pianoforte, lo suona anche con i piedi, e quindi il venerdì sarà ricco di grandi sorprese. I tre buoni motivi per scegliere la Nuova Vita Beach? La nostra è un'estate romantica, più che la discoteca, più che il ristorante, più che le strutture che abbiamo installato in spiaggia, la nostra è una voglia di tranquillità, di divertimento easy. Questa sera come ospiter potremmo cadere i qui si suona, qual è la caratteristica che vi rende così entusiasmati? Beh innanzitutto ci dobbiamo divertire prima noi. Il segreto nostro è proprio questo qua, quello di fare lo spettacolo per loro, non è più il cantante il protagonista, ma diventa protagonista il pubblico. Maurice Carrossieri direttamente da Dubai, all'interno del Nuova Vita Beach? Sicuramente qui in Riviera, fino ad Ancona, penso che il Nuova Vita è uno dei locali più prediretti. Secondo me la gente vuole come sempre divertirsi, però divertirsi e stare bene, penso che questo qui al Nuova Vita c'è. Nuova Vita Beach c'è il mare, la sabbia, le stelle, la luna, un'ottima ristorazione, belle donne, begli uomini. Cosa serve in più per trascorrere una serata? In più niente, c'è tutto, c'è tutto, solamente un po' di voglia per divertirsi e per stare insieme. Qual è il gusto nel trascorrere una serata d'estate? Cosa vogliono le persone? Eh, spensieratezza. Nuova Vita Beach vuol dire esattamente cosa? Vuol dire una nuova vita, vuol dire divertirsi, vuol dire passare l'estate in allegria come questa sera. Sole, la luna, il mare, la bella musica, bella gente, belle donne e ci divertiamo tanto. Com'è questo Nuova Vita Beach per chi dall'altra parte non ne immagina? In due secondi è una piccola Capri, una location bellissima dove tutta la gente in alta classe, comunque un modo per divertirsi è il top. Perché Nuova Vita Beach? Perché è un posto bellissimo, perché belle persone e bella gente. Parola d'ordine, divertimento, amma paria! La parola d'ordine è questa, amma paria! Sempre! Gira! 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 Grazie a tutti.